Ciao a tutti e bentornati ai 101 secondi Viola di oggi. È un ritorno di Martin Jorgensen a metà, nel senso che tutti ci aspettavamo un qualcosa di diverso. La stessa Fiorentina si aspettava un qualcosa di diverso. Si aspettava che Jorgensen diventasse l'uomo simbolo della società, l'uomo che mettesse le radici a Firenze e che poi andasse in giro per il mondo a rappresentare la Fiorentina. Martin è arrivato ieri a Firenze, ha pranzato con Corvino, ha parlato con Corvino, ha accettato soltanto in parte l'idea del direttore generale della Fiorentina perché Jorgensen vuole rimanere in Danimarta dove ha molte cose da fare e da lì potrà essere l'osservatore della Fiorentina per i paesi scandinavi. E diciamo così anche in alcuni momenti particolari della stagione potrebbe rappresentare i Viola nelle sedi UEFA, nelle sedi europee. Certo, forse poteva essere gestito tutto un po' meglio, forse poteva essere tenuto un po' tutto più nell'ombra e oggi l'arrivo di Jorgensen alla Fiorentina, seppure in un ruolo ridotto, avrebbe avuto una rilevanza e un eco diverso. Invece si è fatto tutto alla luce del sole e si è avuta come la sensazione che Jorgensen non abbia, diciamo così, accettato appieno l'offerta della Fiorentina. Dal punto di vista dell'immagine forse non è stata la miglior mossa possibile. Detto questo, Jorgensen torna ed è comunque un tassello importante, un primo tassello perché nell'idea della testa di Pantaleo Corvino ci sono altri ex Viola, ci sono altre figure, altre cariche dirigenziali per rinforzare una struttura anche a livello di immagine che negli ultimi anni ha subito sicuramente brutti colpi. A domani con i 101 secondi Viola. Un saluto da Marco Dell'Olio. Un saluto da Marco Dell'Olio. Grazie. Grazie.